Credi che l'accesso al web debba essere un diritto garantito? Sì, non credo fortemente che l'accesso al web debba essere un diritto garantito per tutti. Per quale motivo? Per il motivo che nel 2017 il web è parte integrante, punto focale del nostro sistema e per cui tutte le persone che sono esclusi da questo punto focale, dal web, dall'uso delle tecnologie, dal digitale, eccetera, non possono, si dice, erase themselves, non possono usufruire questo sistema per acculturarsi, non possono usufruire questo sistema per inserirsi nel mondo del lavoro e quindi riescono di rimanere esclusi da un sistema che non possa permetterci. Parlo in particolare dei paesi sottosviluppati in cui c'è molto potenziale, spesso non sfruttato appunto perché in certe zone non è possibile sfruttare questo potenziale tecnologico. Se ci riesce a dare questo potenziale tecnologico a questi pochi, a queste persone, in certe aree, tutto quel potenziale che ho utilizzato può essere sfruttato al massimo, è molto importante. Grazie.